Bella a tutti ragazzi qui ZFHD ed è come tornato qui con questo video tutorial su come fare l'hack dell'undicesimo prestigio o meglio prestigio master Ci tengo a precisare appunto che è una cosa facilissima e so che molti di voi già l'hanno fatto però per chi ancora non è riuscito è il tutorial ideale Quindi se volete essere a livello 55 dell'ultimo prestigio, avere buon parte, anzi tutte le armi oro e diamante e avere anche molti titoli, questo è il tutorial giusto Allora iniziamo subito, spero che apprezzate anche il fatto che ho messo la possibilità di vedere due joystick in modo da non distinguere il primo dal secondo Allora iniziamo subito, come penso abbiate notato dobbiamo collegare il secondo joystick, dovete premere appunto il tasto PS e premere X col secondo Gioco come ospite, adesso arrivo al passaggio fondamentale, dovete andare su negozio e premere due volte X, 1 e 2 Adesso dovete andare sul primo e fare cerchio, appunto vi dirà che siete scollegati E dobbiamo premere X e andare sul gioco online, ovviamente una cosa semplicissima Quest adesso arriva la parte ideale, cioè la parte fondamentale del tutorial Allora, prima di fare appunto l'applicazione, cioè di collegare il secondo joystick eccetera Dovete creare un nuovo utente, spero di essermi spiegato Allora, dovete creare un nuovo utente, iscrivervi al PSN con i seguenti dati che vi ho messo in descrizione L'email e la password di un tizio che appunto è all'undicesimo prestigio con tutte le armi e con tutta roba varia Quindi, appunto, una volta creato il profilo, cioè continuato eccetera Non dovete fare altro che collegarvi, una volta che siete appunto sulla schermata dei profili Vi siete scollegati, avete fatto due volte X sul negozio eccetera Dovete collegarvi con il profilo che ha la CL Quindi, in questo caso, io l'ho fatta sul mio account secondario e ho qui tutta la roba Quindi, premiamo X Ci colleghiamo, appunto, accedi E possiamo dire che il tutorial è completo Ci tengo a precisare che questo tipo di hack o glitch o roba del genere Non viene sempre il primo tentativo Quindi, non preoccupatevi se non vi esce il primo tentativo La parso fondamentale che magari può, diciamo, non far uscire questo hack È la parte del negozio in cui dovete premere due volte X Non repetutamente, a distanza di mezzo secondo, dai, diciamo così Quindi, adesso non vi basta altro che fare cerchi e uscire dal profilo E andare su sì, fare sì ovviamente E andiamo su gioco online Una volta fatto ciò, si collegherà E come per magia, il vostro profilo Sarete al Prestigio Master Adesso vi faccio vedere che figata Guardate, tutte le armi Argento, i cecchini Tutto, comprese le secondarie Per quanto riguarda Guarda, gli editor No, cazzo, dovevo fare i titoli Anzi, la carriera Adesso vi mostro il ratio Che è 3,58 Pensate ragazzi E i titoli Che non riesco a trovare Eccoli Guardate La maggior parte dei titoli appunto li avete Bene ragazzi Spero che questo video vi sia riuscito Vi raccomando Scrivete qui sotto con un commento Se ci siete riusciti E soprattutto Se avete qualsiasi tipo di problema Ragazzi Non esitate a chiedere Spero di essere stato chiaro Ragazzi Condividete anche questo video Magari con i vostri amici Che ancora non hanno fatto questo hack O magari possono essere interessati Ci tengo a precisare Che questo account Fatelo per il momento Su un account secondario Come ho fatto io Per il mio account secondario Non mi assumo la responsabilità In caso di ban Detto ciò ragazzi Lasciate un mi piace Un commento Bella ragazzi Ciao ciao